dobbiamo parlare dei difensori abbiamo parlato nelle live precedenti e anche sul nostro canale youtube di portieri però oggi è il turno dei difensori fare una buona difesa soprattutto da quando è stato introdotto il modificatore è sempre più importante al fantacalcio attenzione però a non cadere nella tentazione di spendere troppi crediti per un reparto che è sì importante però molto spesso non è determinante come sempre il consiglio classico è quello di fare una squadra equilibrata partiamo bro da quelli che potrebbero essere i top 3 difensori per la prossima stagione voglio tre nomi e commento a seguito allora tre nomi ragazzi secondo me sono presto fatti tre top in difesa sono chiaramente sia in ottica modificatore che senza modificatore per me i top difensori sono i terzini per ovvietà di cose terzini che sono valorizzati dalle squadre in cui giocano e sono il primo sicuramente il treno teo hernandez primo perché come costanza ha migliorato anche molto la fase difensiva ha limato forse anche quei due o tre gialli dovuti magari a una certa irascibilità in campo mettiamola in questo senso secondo per me senza ombra di dubbio è danfries danzatore dell'inter perché comunque l'inter ragazzi è una rosa che gioca con il 3-5-2 molto valorizzata all'esterno molto come collante della fase offensiva molto l'inter gioca sul movimento dell'esterna tutta fascia terzo nome io metto una sorpresa dell'anno scorso una quasi sorpresa perché comunque era stato ampiamente annunciato e per me è sicuramente Molina sicuramente Nowell Molina perché ragazzi giocano un 3-5-2 anche Molina molto valorizzato dall'allenatore anno scorso però quest'anno io credo che sia comunque l'anno di consolidamento per Molina non credo possa portare i 7 gol dell'anno scorso perché comunque ha portato 7 gol più una quantità clamorosa di pali più 2 gol non assegnati a Molina ma assegnati come autogol però veramente letale in termini offensivi io ti do altri due nomi Pietro che secondo me sono di buonissime speranze e così arriviamo a 5 questi sono ragazzi i 3 top secondo noi fantacalcio bros semplicemente perché Pietro qui si batte sul lato gol quindi su quanta offensività possono proporre anche a scapito magari di prestazioni difensive non sempre alle altezze questo in termini più che altro no più che altro andare off modificatore questi per me sono i primi nomi per il modificatore secondo me ci sono tutti altri nomi e adesso ne parliamo esatto oltre a questi se uno non andasse sul modificatore ma volesse una difesa da bonus come chiaramente è consigliabile per me i nomi sono sicuramente Udoji che va a braccetto con Molina forse Molina no già più pronto in termini offensivi perché ha più tiro ha più gamba può battere le punizioni a differenza di Udoji anche se è un ottimo prospetto io ci metto sempre verde Robin Gosens anche se io giudico le fasce con Perisic una S-Tier per l'Inter giudico la fascia con Gosens per l'Inter una A-Tier quindi perde un pochino in regia l'Inter ma come efficacia offensiva secondo me ne guadagna tantissimo io ci metto un terzo nome che per me è validissimo anche questo è un sempre verde capitano gioca sempre ed è Faraoni del Verona per me questi sono i meglio nomi su cui cadere in termini di difensori bomber ne avrei voluto mettere un altro e questa per me è un'indicazione molto interessante che è Biraghi ma Biraghi ragazzi non avrà più i rigori quindi scende drasticamente di appela secondo me allora prima di parlare invece dei difensori da modificatore perché questi erano i difensori da bonus poi parliamo di cifre parliamo di budget prima diamo i nomi molto spesso i difensori da bonus sono anche poi quelli che rendono al modificatore perché chiaramente bonus portati voto in più in pagella ma è difficile assicurarsene più di 1 barra 2 1 e mezzo perché sono tanti soldi Teo Hernandez si paga quanto un ottimo centrocampista e eventualmente anche come un terzo quarto slot in attacco ma ripeto di cifre parleremo tra poco bisogna poi tenere conto dei giocatori per il modificatore che magari vai a pagare un po' meno però lì si conta il voto non importa avere un bonus per guadagnare quel mezzo punto in più che ti fa scattare il modificatore bisogna essere costanti nel rendimento durante l'anno e soprattutto cercare di non scendere mai sotto il 6 assolutamente ma puntare sempre ad avere il 6 e mezzo in questa ottica bro quali sono i tre nomi fondamentali per una difesa con modificatore i tre nomi proprio di punta che chiaramente non possono scappare secondo me a nessun fantanatore sono più di tre mi oriento verso 5 barra 6 nomi e sono i nomi di riferimento delle big secondo me io ci metto De Ligt nel caso rimane stella Juve io ci metto Tomori ci torneremo sulla coppia del Milan tra poco perché ci sarà un nome secondo me che verrà pagato poco io ci metto chiaramente il Koulibaly io ci metto lo screener dell'Inter piuttosto che il Bastoni o piuttosto che il De Frey nel caso rimanga a Milano lato Inter io ci metto chiaramente il Bremer del caso sia che vada a Torino che rimanga a Torino sia che vada all'Inter forse con qualche piccola riserva perché non farà il libero vecchio stile d'anticipo come a Torino io ci metto chiaramente comunque questi nomi io ci metto anche i nomi della Roma i nomi della Roma sono nomi interessanti perché ragazzi al di là che possono offrire tante volte prestazioni non all'altezza secondo me soprattutto dal punto di vista difensivo dal punto di vista di Malus in termini di ammunizioni di espulsioni e quant'altro è una difesa che funziona perché è una difesa molto rocciosa alle volte anche abbastanza secondo me funzionale in termini di velocità ma soprattutto ragazzi picchia tanto e bene di testa l'abbiamo visto con Mancini due anni fa quest'anno è stato il turno sia di Smalling di Bagnez però comunque è un disegno secondo me ben collaudato è una regia ben collaudata hanno un grandissimo battitore d'angoli che secondo me è Pellegrini prima degli altri nomi lato Roma però ripeto ragazzi sono nomi che secondo me sottotraccia soprattutto per quello che riguarda la Roma per guardare le zone alta classifica secondo me molto funzionali in termini di budget e poi di bonus attesi secondo me altro appunto ci sono tutte quelle difese rocciose che ha allenatori rocciosi quelle difese da 3 di difesa simile Udinese può essere Concioffi lato Verona con i saltatori a Verona possono essere valorizzati i vari Ceccherini i vari Gunter e chi per loro e di conseguenza un nome che io apprezzo tantissimo per il budget destinato sarebbe un Pablo Marie nel caso in cui tornasse lato Udine perché è scaduto il contratto è scaduto il prezzo tornasse lato Udine Pablo Marie è un buonissimo difensore in primis buoni voti in secondo 15 presenze due gol un becao sono tutti nomi secondo me che come quarte quinte scelte secondo me sono super duttili super funzionali a un modulatore difesa Atalanta senza coppe perché negli anni abbiamo visto che comunque i difensori dell'Atalanta hanno reso questa è una domanda interessante non è una difesa a me vince che piace particolarmente l'Atalanta ha quel modo di giocare un po' spregiudicato partendo anche dalla difesa una difesa molto alta una difesa che gioca molto sull'anticipo è una difesa che io vedo grezza io faccio sempre il paragonio per l'Atalanta da un Atalanta pre-Romero e un Atalanta post-Romero con un Romero in mezzo al campo in mezzo alla difesa che comandava dettava le geometrie dettava i movimenti dettava le preventive era un Atalanta un Atalanta secondo me senza un leader non a livello di spogliatore perché lì c'è è il palomino della situazione ma più in campo quindi di corsa di tecnica di anticipo secondo me manca un po' all'Atalanta e non è una difesa che a me piace particolarmente perché è molto rocciosa e mi sembra che l'Atalanta si stia rivolgendo verso altre soluzioni piuttosto che con i calci piazzati io non mi ricordo tanti gol di quest'anno dell'Atalanta forse un Toloi contro l'Inter ma non mi sembra fosse nata da un calcio d'angolo piuttosto che da un mezzo arrosto di Andanovic quindi vi consiglio esatto un nome può essere Scalvini perché veramente Scalvini quando ha giocato è veramente un faro per i calci piazzati ha veramente preso qualunque cosa fosse ad un'altezza media di 2 metri in area di rigore pro Atalanta quindi in fase offensiva però ripeto ragazzi lo Scalvini nella situazione può essere un quinto o sesto slot anche perché l'avete visto ragazzi Gasperini non è l'emblema dell'affidabilità al fantacalcio te li cambia magari non giocano ti aspetti spendi no per l'ipotetico Demiral Cyborg che a me non piace il fantacalcio perché è tanto falloso ha tanti gialli e tante volte ha qualche lacuna defiance difensiva però magari il Demiral ti serve che ti gioca nella giornata X non gioca gioca lo Scalvini magari si presenta a 4 non è affidabilissima secondo me la difesa d'Atalanta non quanto meno da primissima scelta poi è chiaro possono essere tappe a buchi clamorosi e possono essere tappe a buchi secondo me soprattutto negli scontri diretti per me valide soprattutto per quanto riguarda il Demiral della situazione però ci farei affidamento io come terza scelta e mezzo a calare quindi dal terzo posto e mezzo in giù inizierei a guardare l'Atalanta Sopna secondo me ci sono posti più affidabili in termini di vista di minutaggio in termini di vista di rendimento in termini di vista di bonus portati budget i Theo Hernandez i Danfries ma io ci metto anche i Koulibaly quanto si pagano al fantacalcio allora partiamo dal presupposto che dal trittico no dall'Olimpo dei difensori ci corre qualche credito qualche qualche differenza percentuale dal terzino da Bomber piuttosto che al Koulibaly al Tomori secondo me al Delicta allo screener ci passa secondo me qualche credito il difensore Bomber secondo me lo paghi io faccio il raffronto con il mio fantacalcio lo paghiamo tendenzialmente all'intorno di 20-22 rispetto al 300 di budget quindi comunque è un è un budget del 10% scarso è un 10% scarso secondo me questo può essere un intorno secondo me ovviabile ed abbordabile detto questo ragazzi dato che comunque per quanto riguarda i difensori le aste sono tanto variegate e vi indirizzate verso una difesa da modulatore allora quello che vi consiglio io per i Theo per i Molina per i Dunfries è che per questi nomi quindi nomi che assicurino bonus accetto anche una spesa secondo me superiore un 12% se io batto su una difesa da modulatore il Theo Hernandez della situazione è necessario è realmente ragazzi necessario e tante volte indirizza più l'asta il campionato rispetto a una terza punta o un centrocampista da bonus quindi esatto Connor ci siamo quindi un 50 su 500 un 100 su 1000 ma anche un 120 su 1000 o un 60 barra 70 su 500 secondo me è una cifra data l'asta da modificatore secondo me è un nome necessario è un nome necessario però come poi si finisce di comporre la difesa da modificatore perché se tu spendi il 10% mettiamo del budget per Theo Hernandez spendi 30 su 300 per Theo Hernandez poi però hai da comprare anche altri sette difensori perché Theo Hernandez è sempre un ottimo elemento per il fantacalcio diventa però ancora più importante se hai il modificatore però questo è la difficoltà del modificatore ragazzi cioè non vi basta un solo un solo difensore perché per far sì che vienti il modificatore con il portiere e c'è il video e le dirette che abbiamo fatto per quanto riguarda il portiere per quanto è importante avere un ottimo portiere al fantacalcio anche per il modificatore poi bisogna giocare con la difesa almeno a 4 quindi bro almeno altri 3 difensori buoni servono quanti di questi devono essere da modificatore e quanto bisogna poi spendere allora il discorso è presto fatto ragazzi il consiglio che noi vediamo è che se voi fate un'asta con modificatore non vale la pena comprare il Teo della situazione più 3 giocatori alla Kirikesh per intendersi qui non ne vale la pena realmente perché rischi veramente di non agganciare il modificatore e di conseguenza rischiare di sperperare comunque i bonus che ti fa il Teo i set che ti prende il Teo Hernandez e quant'altro quindi il consigliabile è che se uno prende il Teo della situazione e voglia fare il modulatore quello che consigliamo noi è togliere crediti perché i crediti sono quelli ragazzi non si scappa dal 300 dal 500 dal 1000 però si può cercare di distribuirli meglio in che senso si distribuiscono meglio se io faccio una difesa da modulatore non darò più allora il 60 50% all'attacco ma piuttosto vado a levare un 10% all'attacco levo un 5% all'attacco e quindi tutti si presentano col 60% che ti presenti magari con il 45% il che non ti preclude l'opportunità di fare un buon attacco ma magari non vai a capofitto su un big però però quel 5% che ti risparmi sull'attacco o comunque sul centrocampo li rinvesti secondo me con mille benefici in difesa in ottica modulatore o modificatore che sia quindi è questo il discorso ragazzi con un teo pagato il 10% io vi posso dire un intorno totale per la difesa da modificatore che per me è il 20-25% per me si devono spendere tutti più un 12 15-15% per il portiere quindi un 40 per me ragazzi se è un 35 e un 40% porta più difesa da modificatore sono compresi per forza di cose quindi un 40 35-40% sono da spendere e se fate due semplici calcoli Pietro un 20% per il centrocampo ti avanza un 40% per l'attacco se è un 15% per il centrocampo ti avanza un 45% per l'attacco però quello che vi consigliamo noi il modulatore deve essere una scelta non deve essere una conseguenza all'asta perché esce tot nomi allora video sul modificatore se uno fa il modificatore uno entra a gamba attesa sul modificatore perché perché il modificatore deve avere un criterio non si può avere tre difensori su otto da modificatore e tutti gli altri prendere scarti riserve bisogna avere quanto meno sei nomi su otto che assicurino in primis la presenza in secondo luogo per me assolutamente il rendimento da modulatore ma alto alto là il rendimento da modulatore non vuol dire cascare sempre sui soliti nomi ma andare a cercare magari quella squadra che gioca magari un pochino più bassa che gioca a tre in difesa prendere il libero piuttosto che gli esterni prendere difensori un po' meno fallosi è tutta poi un'analisi a seconda della strategia scelta all'asta uno deve attuare poi un'analisi esatto il teatro della situazione difesa a tre roccioso già delimitati che però va a saltare di testa questi sono tutti i nomi che servono ragazzi perché non si va mai ad affrontare un fantacalcio con undici giocatori tante volte sono ben più destabilizzanti le panchine o comunque avere una panchina lunga